Come ha vissuto questi tre anni e come vive questa giornata? Tre anni l'ho vissuti solo con l'effetto di questo ragazzo che è tutta la mia vita e credo che anche lui, quello che vuole, io faccio tutto perché c'è solamente lui, non c'è nessun altro. Se mi dovesse lasciare lui per me sarebbe finita perché sono lui, però io gli faccio mancare niente, niente. Più di un figlio, più di qualsiasi cosa. È bravo. Oggi se non avevo lui non avevo la persona che mi poteva portare giù perché l'abbadante di riposo e anche quella mi è cominciata poco bene e non possiamo essere due in casa malati. Una grande e bella vittoria ancora una volta delle carrozzine determinate. Una associazione straordinaria che non si ferma di fronte a niente e combatte davvero le ingiustizie. Non è possibile che ci vogliano tre anni. Una persona reclusa in casa, l'unico reato è quello di avere una patologia o una malattia. È veramente assurdo e incredibile. Comunque oggi registriamo davvero una bella giornata. Dopo tre anni il Comune di Pescara ha ascoltato le nostre richieste e devo dire che l'assessore Allegrino prontamente si è subito attivata con noi e abbiamo risolto questa situazione. Però, come dicevi proprio tu, ci sono tantissime situazioni negli alloggi popolari non solo nel Pescarese ma in tutto l'Abruzzo. Ci sono persone recluse in casa a causa delle malattie. Qui siamo alla violazione dei diritti umani. Siamo proprio veramente a un colpo duro all'essere umano. Questo non può accadere. C'è una responsabilità chiara e netta delle istituzioni. Non è stato semplice perché questo immobile non è un immobile di esclusiva proprietà del Comune ma è stato quindi necessario naturalmente coinvolgere il condominio e quindi fare tutta una serie di operazioni e di interventi. Inoltre è stato necessario reperire anche i fondi e oggi siamo arrivati effettivamente in tempi brevi a raggiungere questo risultato perché era da troppo tempo che il signor Ottavianelli era rinchiuso prigioniero in casa. Oggi lui ha la possibilità di uscire tutti i giorni quando vuole. Abbiamo sperimentato che lo scivolo è stato fatto in maniera adeguata e io ho voluto anche regalargli un simbolico portachiavi che è una lampadina con cui ho voluto dirgli oggi hai da questo momento in poi la possibilità di uscire.